Azione! Solo perchè la 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 Vendicandosi plume non si è nascosta Arrivacciamo va! Azione Cube Everest! Azione! Buongiorno Ispettor Caroleo! Buongiorno Fritz! Mi seguo per cortesia! Coupé! Quadratto! Azione! La vittima aveva 23 anni Si chiamava Stefano Pirotta Ha detto Stef Azione! Ragno mi aveva appena invitato a bere un goccio Sono arrivato subito ma la porta Era chiusa Ho bussato, gridato Oddio Allora? No delusione Per me 4 stagioni E si continua Ok? Mi vuole piccola per lui e per me pure Che depressione! Ok! Azione! No! Azione! Ma non so Forse usando una lunga scala No rifletti Freaks Qualcuno l'avrebbe notato Che strano odore Dall'aspetto esteriore sembrerebbe vino Ma l'odore non è quello del vino Ma non so Vi porterò ad analizzare in laboratorio E vedremo se c'è dell'altro oltre al vino Ma A proposito Dov'è finita la bottiglia? Qua 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 Si 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 Oh Si No 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 si beh è una prova in senso Non Cuvier Et Action Strange Flash Flash No AAAAAAHHHHH Sbagliato il tempo Come la nostra anche Sì Facciamo un po' di contenuti extra Da mettere nel DVD E' il nostro al di là Allora Quanti litri di sangue avete bevuto oggi? Abbiamo tante, sapevano anche di cacao Abbiamo un po' di La mia voce Che giura Grazie 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 Azione Magari è servito di qualcuno di noi Per comunicarci qualcosa Quel candeli era acceso Quei calici Sono come i messaggi che si rivolgono alla nostra memoria Per Per E... Azione Sarà Azione Scar Mi rendo conto che In questa storia Ognuno di noi ha svegliato qualcosa No Azione Che vento Coupe Scusa E azione Ah No c'era uno scarafaggino Ah Ok Vabbè Non fa niente E... Aspetta Vabbè Non si vede tanto Eh grazie Silenzio E... Azione Che freddo Coupe Che? Chi? Ah Aspetta È entrato un calabrone O una vespa No ma... No Qualche cosa? No Azione Scar La morte tornerà domani Scar La morte tornerà domani Oddio Preferisco andare prima Prima di... Prima di che cosa? Prima di... Prima di impazzire Prima di sbagliare Azione Scar La morte tornerà domani Scar La morte tornerà domani Oddio Preferisco andandere Prima di diventare... Ahah Ciao Asteroide Vai ciao Azione Sette Sette un po' Mi spieghi perché se siete tutti quanti così poco piacevoli tra di voi Azione Senti mi spieghi perché... Se siete tutti quanti così poco piacevoli tra di voi Come? Come? E... Aspetta che c'era un azio Aspetta 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 Madonna Azione Non si è mai saputo il perché Nessuna lettera da Dio Niente spiegazioni È stato un gesto veramente... E... Azione Non si è mai saputo il perché Niente lettera di spiegazioni Niente... No... Azione Oh... Proprio dal tarazzino Tarazzino Eh? Ho detto Tarazzino Il silenzio E... Azione Che buon profumo No... 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 Ok... Motore... Silenzio... E... Azione Ispettore? Sì Azione Sono proprio stufa di stare chiusa in questo salone Ma perché? Ma perché... Sì Sì Azione Qui tutti mi chiamano strange Chissà perché Studio medicina al quart'anno No... All'ultimo... All'ultimo... Azione Qui tutti mi chiamano strange Chissà perché Studio medicina... Ultimo anno Azione Io me ne sarei andato per colpa delle lettere Azione Mi chiamano astuto Sono uno studente all'ultimo anno dell'ultimo anno di chimica Ah mamma mia Mi chiamano astuto Sono uno studente all'ultimo anno di chimica Mi chiamano astuto Mi chiamano astuto Mi chiamano astuto Studi matematica Mi lauro alla fine dell'anno Se potete E se non ti ardi il collegio Mi chiamano astuto Mi chiamano astuto Sono uno studente al quinto anno di chimica Silenzio Di nuovo Coupé Ma che cosa... Azione No dopo Ma voi due chi siete? Mi chiamano astuto Sono uno studente al quart'anno di chimica Allora Ehm... Inquadrato Un attimo perché mi puoi inattivare Silenzio e az... no, ricarato e azione Ma sì, anch'io ho una certa fama Buongiorno, è stato commesso un omicidio, non è che potreste venire subito per favore? È stato commesso un omicidio, potete venire subito? Grazie Azione Pronto, buongiorno, senta, è stato commesso un omicidio Sì, non è che potreste venire subito? Ma... Pronto, buongiorno, è stato commesso un omicidio in collegio? Sì, non è che potreste venire subito qui? Ah, grazie, grazie, buona giornata Ma risponde o... Nada Nada Scusami, ti prego, mi dai altre due sigarette? Che sono finite, no, sono finite, sto provando mille volte Grazie, scusami, ciao E non è stato nessun omicidio adesso Concentrati e... Azione Ah, rispettone, miei figli, c'è un cappello da sto secco? No No Azione Se lei fosse colpevole, Blanche Si tratterebbe di un crimine totalmente diverso Curia Lenzo Le azione Se lei fosse colpevole, Blanche Si tratterebbe di un crimine totalmente... Le pappanculo Azione Se lei fosse colpevole... Che cazzo Ispettore è chiuso Allora Se lei fosse colpevole, Blanche Si tratterebbe di un crimine totalmente diverso Vabbè Silenzio Un quadrato E... Azione Forse... Ma non tocca Ah, è piccato perché... Azione Scusate Un quadro e silenzio Silenzio Mi fa che... Coupé Quando è pieno Funziona Andiamo quindi? E quindi andiamo Non salto perché... Che paura Dai che ridere Quindi già la stavi facendo Coupé Oddio ti sei fatto il bagno Scusate Staccazzo di acqua Motore, azione. Step, cazzo, non mi devi guardare. Guardato e azione. Abbiamo finito il piatto. Azione. Sì, come? Azione. Ma, è incomprensibile. Glielo ripeto. Abbiamo trovato dell'inchiostro rosso, mischiato con del... Ah, qualcuno. Azione. Ma, è incomprensibile. Non ho mai visto una cosa del genere. Glielo ripeto. Abbiamo trovato del cloruro di pota... Ah, mi mi... Azione. Ma, è incomprensibile. Glielo ripeto. No, eh... Azione. Ma, è incomprensibile. Glielo ripeto. No, eh... No, eh... No, eh... Azione. Ma, è incomprensibile. Non ho mai visto una cosa del genere. Glielo ripeto. Abbiamo trovato nei calici... De... Cloruro di potassio. Azione. Ma, è incomprensibile. Glielo ripeto. Non abbiamo... Coupé... Azione. Ma, è incomprensibile. Non ho mai visto una cosa del genere. Glielo ripeto. Azione. Ma, è incomprensibile. Senza il telefono, eh... E poi l'ha uccisa, tagliandola la carotide. Non si scordate. Ma, perché sostituire il veleno con l'inchiostro? Il vino con il... Il vino, porco Giuda! Silenzio. E... Azione. Secondo me, è logico. La persona che è venuta in camera della vittima, l'ha prima resa inoffensiva con il veleno e poi l'ha uccisa con un colpo alla carotide. Vabbè, la rifaccio. E poi l'ha uccisa tagliandola la carotide. Il veleno le dava la sicurezza che il ragno sarebbe morto comunque. Anche nel caso il colpo alla gola sarebbe... fosse stato... Perché? No, questo... Ma, perché sostituire il veleno... Porco Giuda! Secondo me, è logico. La persona che è entrata in camera della vittima la prima resa inoffensiva o coni 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 coni. Asciuto. Però stai già ridendo tu. Non lo so. Il veleno le dava... le dava la sicurezza che il ragno sarebbe morto comunque. Anche nel caso il colpo alla gola non fosse stato abbastanza preciso o abbastanza... Ti vedo che riri. Vabbè, basta! Tore, silenzio. Azione. Flash! Strang! No! Ha, 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 ha! Occione. Blanche. Strang. No! 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 ACHIONE VASKIT ACHIONE 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 Motore, silenzio, inquadrato, azione. Silenzio, inquadrato, azione. Il grigiume della tua vita non trova posto dove le fiamme sono accendenti. Soffiare su queste fiamme è il grigio di acqua. Cosa hai detto? 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 No, c'è un po' tra poco da vicino. Vediamo chi fosse prima di diventare un fantasma. Cube... Azione! Eh ma questo è... È rotto. Eh ma questo è l'ebrezza del... Che dovessi mettere il gregio? Ah 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 ah! Cube... No! Skar! Skar! Coddio ma mi ha cappottato! No Skaar! Skaaaar! No, SCAR! No! Scar! Scara! Cube... Azione! Se guarda la mano di un morto è morto, che schifo È morto anche lui Azione È stato ammazzato No, rifacciamola Eh sì, rifacciamola Azione È stato ammazzato Che infatti Ero la sua fidanzata Sono l'unica a sapere perché si sia suicidato E l'ha ucciso Ah, veramente Azione Infatti Ero la sua fidanzata Sono l'unica a sapere perché si sia suicidato E l'ha ucciso 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 Che tu sai che dici tu l'ultimo E infatti ero la sua fidanzata Con un'unica a sapere perché si sia suicidato Scusate No, mi fai Ok Va bene Allora, potresti staccare il coso dal radiatore E metterlo Dal radiatore? Per metterlo lì? Per molti anni, no? Sì, ma La mia italiana ha tanti sinonimi E il bello percorso Noi danniamo C'è la maglietta Noi danniamo Allora Quadrata Solo qui Allora vediamo la simetria Cioè praticamente Susan non dovresti andare troppo verso lui Io solo là No, ma vai un po' più a sinistra Ancora, ancora, ancora Ok No, 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 no Guarda Ecco Ecco Allora Qua Non muovere di un centimetro perché è inquadrata bene Adesso l'unica cosa è che Cioè, boh Giranti così Non puoi farlo Uno, due, tre stelle Niente passi in avanti o indietro Neanche per un millimetro Neanche per la Ok Neanche tu Ok Perché in realtà dietro Beh, dietro comunque non si vedrà Si vedrà forse solo il movimento del Ok Allora Inquadrata E Non puoi farlo